Oggi è dedicato allo sport con il premio, la presentazione del premio Rotary per lo sport a Como con le varie società comasche coinvolte, quindi adesso vi diremo come se appartenete a una società potete anche voi candidare la vostra società, anzi fatelo perché credo sia importante dare questo vostro contributo importante e detto ciò saluto i nostri ospiti che sono qua con noi questo pomeriggio, Luca Pellegata del Rotary Club Como Baradello Luca buongiorno, buongiorno a te, grazie di essere con noi, sportivamente invece c'è anche la nostra Maria Pinto di Aries Como Presidente, ciao Maria, buongiorno, lei va sempre di corsa, io la invidio anche come diavolo fa ad avere una linea così pazzesca però si allena tutti i giorni, la fatica, sì esattamente e io non la faccio, quindi con te poi parleremo di una bella manifestazione che coincide con questo premio Rotary per lo sport ai giardini a lago, la maratona, la mezza maratona meglio, che ci sarà il giorno 8 di maggio iniziamo da te Luca, intanto buon pomeriggio, saluto anche i nostri telespettatori, allora come avete pensato, diciamo subito grazie anche all'assessore Paolo Annoni, l'assessore allo sport che ci sta seguendo, non può essere qua però ci segue da distanza ha avuto anche lui questa bella intuizione, poi ti ha chiamato come Rotary e che cosa avete pensato? ha detto Luca aiutiamo le associazioni sportive e quindi ha chiamato me, ha chiamato Stefano Croci del Rotary Como che è giusto dire che partecipa e collabora con noi e ci siamo inventati questo premio per lo sport perché serve, il focus era di riportare un po' i ragazzi ad aggregarsi, stare insieme all'aperto abbiamo una città bellissima, degli spazi da sfruttare il più possibile ed è nato questo premio dove praticamente il Rotary mette a disposizione un premio economico per le tre associazioni che è questa giuria, dove è composta da me, da Stefano, dall'assessore Paolo Annoni dal presidente del CONI, Nicchi D'Angelo e dal presidente del Panatron, Stefano Ceriani Edoardo Ceriani Edoardo, sì, Edoardo Ceriani, scusate Esatto Esatto, sì ecco quindi la giuria giudicherà, sì giudicherà Sì, valuterà, esatto Le presentazioni migliori che arriveranno, la qualità del lavoro Sì, queste presentazioni che invito tutti a inviare presso un indirizzo mail Bravo Assessorato sportchiocciolacomune.com.it quindi gli atleti, i soci, i dirigenti delle varie associazioni si possono candidare il loro club, chiamiamolo così, il loro club sportivo mandando del materiale che racconti un po' la storia dell'associazione gli articoli di giornale, piuttosto che le attività fatte anche chi rappresenta l'associazione in ottica anche di parità di genere quanti ragazzi, quante ragazze disegni piuttosto che fotografie, tutto materiale che poi verrà appunto valutato e giudicato Tutto quello che serve insomma per valorizzare una determinata società non ne facciamo nomi perché sono tante ovviamente però ecco Luca possono partecipare solo le società di Como Città, giusto? Possono partecipare le società della città di Como Esatto, 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 sì perché con la partecipazione del Comune di Como abbiamo pensato poi di limitarlo poi alle società Comaschi Allora abbiamo già detto, non lo so, mi è sfuggito quanto è il contributo per ogni società? I premi saranno di 1000 euro per ognuna delle tre società che verranno poi che vinceranno questo premio Mi viene da dire, candidate, candidate la vostra società ma questo vale per i ragazzi, i responsabili, i dirigenti insomma uno per ogni società che faccia da referente Esatto Per portare lì la testimonianza importante insomma la Commissione poi giudicherà le tre meritevoli In questo periodo, caro Luca, sappi che 1000 euro per una società direttantistica o non vanno comunque benissimo perché si viene fuori da un periodo criticissimo L'obiettivo era quello, cercare di dare comunque un supporto, una mano a tutte quelle associazioni sportive che hanno sofferto negli ultimi anni e mezzo o due E per dare poi opportunità di visibilità perché poi l'invito nella giornata dell'8 maggio che sarà una grande giornata di sport come dicevi te nel pomeriggio l'invito sarà a queste associazioni di rimanere in città all'interno del parco, del parco del Giardini Alago dando la possibilità di fare delle dimostrazioni sportive Esatto, quindi una sorta, una vera e propria giornata dello sport Ci saranno varie associazioni quella di Maria ad esempio, Arias, faranno dimostrazione di run, di corsa insomma, la scherma farà la scherma il volley farà il volley, basket, calcio e quant'altro Abbiamo rugby, abbiamo un sacco di sport Esatto, esatto, quindi anche per i più piccoli insomma una ottima vetrina per venire, vedere, guardare e decidere che sport fare perché è quanto mai importante farlo e voi credo che come Rotary, giusto Luca, lo supportate e questa vostra iniziativa credo sia meritevole Assolutamente sì, lo sport come veicolo importante di formazione anche culturale per i ragazzi Assolutamente E chi di sport ne sa davvero qualche cosa e tanto direi è proprio Maria Pinto la responsabile di Arias Como perché? Perché poi l'8 di maggio ci sarete anche voi, giusto Maria? Sì, sì, certo Cosa facciamo di bello l'8 maggio? Dillo te Cosa facciamo? Allora, lui l'ha già detto insomma, ci sarà questa grande giornata tu fai vedere un attimo la locandina la nostra balletta abbiamo fatto le prove Alza un po' Luca, alza un po' ecco, perfetto, perfetto Allora, l'8 maggio che cosa organizziamo? Tienila ancora un attimo Noi organizziamo la mezza maratona del lago di Como che partirà appunto dai giardini al lago zona Tempio Voltiano e quest'anno arriva l'undicesima edizione ha una bellissima novità nel senso che oltre alla mezza maratona ci sarà anche la 5 km che è proprio la sua prima edizione che è una gara velocissima per chi ha voglia appunto di di corrersi un po' tutto d'un fiato e chi magari la distanza dei 21 è Maria, il percorso è un percorso adatto a tutti mi pare di capire anche la mezza perché si arriva praticamente costeggiando il lago bravissimo fino a Lago arriviamo al giro di Boa di Lago una manciata di Dimitri io lo dico così sembra una cosa così no, cioè nel senso ti vedo tutte le domeniche no, no, no e quindi quelli bravi di Arias la fanno senza problemi quelli un po' meno bravi come me farebbero grande fatica però è aperto a tutti è aperto a tutti è una gara organizzata dalla federazione quindi comunque bisogna essere tesserati ovviamente comunque sul nostro sito che è www.runningcomo.it ci sono tutte le informazioni sia per iscriversi farlo rivedere così almeno ecco bravo così facciamo rivedere perfetto Luca allora l'iscrizione è qua la vedete Running Como è il sito ufficiale dove potete andare iscrivervi poi potete scegliere la Half Marathon che è una mezza appunto appunto o la Fast 5 km e opterei per quella che tu no scherzo partenza alle 8 e mezza dal Tempio Voltiano bravo Luca fa anche il valletto grazie grazie perfetto assunto senti no Maria come dicevamo è un'ottima occasione davvero per per uscire noi siamo siamo contentissimi di ospitare appunto la premiazione perché vabbè come diceva giustamente Luca è una bellissima opportunità per lo sport e per far vedere anche tanti altri sport che non sono solo quelli legati all'atletica ma anche appunto la scherma la pallacanestro mi sembra ci sia anche qualcosa c'è Roberto che è un ex ciclista esatto ciao Roby un saluto a te che dice ciclismo è anche il ciclismo in effetti dovrete contattare anche le società ce ne sono anche di società alcune società sono state contattate ok perfetto tramite l'amministrazione tramite l'assessore so che ha già contattate verso società se qualcuna ce la siamo dimenticata chiediamo scusa ma siamo qua no no c'è la possibilità anche per il ciclismo ok perfetto bene saluto anche gli altri amici ciao Ruggero Loretta ciao poi ciao Clara ciao Chiara buongiorno molto interessante dice anche Giancarlo ciao Chiara anche a te Roberto anche lui dice bene bravi anche Corrado buonasera ragazzi bene sono contento e allora tutti voi amici che ci seguite in diretta radio in diretta sui social è molto importante quello che diceva prima Luca passate parola fatelo sapere perché mancano ancora dieci giorni fino al quindici di aprile oggi è quattro undici giorni undici giorni però undici giorni passano veloci quindi raccogliete tutto possibile materiale e mandatelo alla mail dell'assessore Paolo Annoni ricorda che è assessorato sport chiocciolacomune.com perfetto lì dovete mandare tutto il materiale per dire la mia società X è meritevole per questo 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 ci aggiungete magari anche degli articoli dei video se volete visto che siamo nella nuova edizione 2.0 ci aggiungete insomma tutto foto e mandate all'assessore che poi sarà lui e la giuria a completare questa bella valutazione poi ecco la cosa importante come diceva Luca è questa bella giornata dello sport alla zona dei giardini quindi l'invito è proprio quello di essere presenti tutto il giorno non solo per la premiazione che sarà in concomitanza con la premiazione della maratona della running como ma essere disponibili e stare lì il pomeriggio perché poi faremo veicolare questa informazione anche tramite le scuole e l'invito sarà ai ragazzi di venire in città quel giorno lì per una grande giornata di festa il pomeriggio bravo Annoni dice la nostra Clara certo Annoni davvero si sta davvero mostrando anche un grande appassionato lo è sempre stato è un grande appassionato di sport è assessore allo sport si sta dando davvero un grande affare ed è una bella occasione per radunare tutte le società del nostro territorio che sono davvero tante tu lo sai Luca quindi io credo lo scoprirò l'otto maggio no te lo dico io te lo dico io che sono veramente tante ovviamente pensa anche a una seconda edizione perché è un aiuto importante quindi grazie ai Rotary che ovviamente si sono prodigati e hanno deciso di mettere a disposizione questa cifra che ripeto non è così sono tantissimi no infatti vero Maria sono tantissimi non sono mai non sono mai abbastanza veramente poi quando tra virgolette piovono un po' dal cielo direi che è un bel aiuto è un bel aiuto quindi sono curiosa di vedere anche io se posso partecipare non posso alla giuria però mi piacerebbe comunque partecipa partecipa con Aries ecco ne approfitto della tua presenza visto che tu vai sempre di corsa per oggi oggi siamo tranquilli è già un miraglio io l'ho vista sempre di corsa veramente è una ragazza scatenatissima ma giustamente è un bel messaggio è quello che tu lanci Maria tu e Aries ecco Aries che cos'è che cosa è rappresenta la vostra associazione chi siete noi siamo siamo un po' un'associazione storica comune nel senso che siamo nati nel 2009 e abbiamo questa comune passione siamo nati io sono presidente da solo i due anni quindi è vero esatto sei diventata durante la pandemia ecco infatti quindi ho ereditato tutto quello che è comunque il lavoro costruito da Aurelio Martinelli che comunque ringrazio lo salutiamo lo salutiamo ciao Aurelio carissimo buongiorno e gli facciamo un in bocca al lupo per tutto perché poverino ha avuto una serie di sfortune anche un po' di salute e quindi speriamo in bene che ne possa uscire e possa tornare a correre in fretta soprattutto sul percorso della sua mezza insomma perché comunque quindi il run in coma la vostra la vostra Aries nasce proprio per portare questa mezza maratona che poi io mi ricordo anche pre pandemia è stata sicuramente una manifestazione veramente seguitissima con una grande partecipazione vero sono arrivati atleti anche da oltre il Comasco la Lombardia la Svizzera il Canton Ticino ma poi diciamo che vabbè quest'anno abbiamo fatto appunto la prima edizione post pandemia l'abbiamo fatta a dicembre quindi in questo periodo per noi insolito perché normalmente appunto il nostro periodo il periodo della gara è sempre maggio però ecco a maggio eravamo forse un po' troppo ancora vicini al periodo e allora vabbè abbiamo fatto questo esperimento chiamiamolo natalizio che è stato un successo vabbè siamo stati fortunatissimi una giornata meravigliosa per il meteo perché comunque fredda ma bellissima questa gara va così bisogna sempre incrociare le dita perché quando c'è il sole il tempo è bello è tutto è tutto un divertimento però vabbè siamo a Como si sa che che piove spesso e quindi vabbè va bene anche ecco in questo periodo infatti ma è quello io sono lì che sto guardando il meteo perché tu stai a vedere che fa ascolta da qui all'8 maggio Maria c'è ancora tempo incrociamo le dita non è ancora attendibile no la cosa molto importante dire a chi vuole partecipare comunque la possibilità di iscriversi già sul sito ufficiale quello di run in Como run in Como punto it ecco c'è da scegliere la 21 o la 5 km e quello poi ovviamente dipenderà dalla vostra abilità su prego scusa se ti interromo tra l'altro quest'anno la novità diciamo che piano piano insomma l'esperienza ci fa crescere sempre di più abbiamo il premio anche qui un premio in denaro che daremo per il primo primo atleta assoluto che riesce a battere il record della gara ovviamente sia nel maschile che nel femminile e quindi questa è appunto una bella novità anche un po' un incentivo proprio perché come dicevamo prima che a dicembre c'erano grandissimi atleti provenienti da tutta Italia non solo dal Comasco ma veramente atleti di grande spessore quindi la Running Como è davvero una bella vetrina e Aries credo ne è orgogliosa ma sì sì è il nostro fiore all'occhiello e siamo molto contenti giustamente il fiore all'occhiello mostra ancora la locandina dai Maria la mia balletta il tuo balletto alza su un attimo così lo vediamo ecco perfetto questa è la locandina ufficiale vedete Running Como organizzata appunto da Aries con la collaborazione anche di diversi sponsor che hanno aderito e vi hanno dato una mano molto importante e l'8 di maggio la grande festa lì ai giardini con la mezza e con la 5 km vai Luca e adesso per chiudere allora ricorderei ancora una volta un invito dai alle società del nostro territorio ringraziando Maria insomma che veramente va sempre di corsa lei è qui ci sarai anche tu ovviamente noi in quanto organizzatori ovviamente non correremo a parte forse magari qualcuno che voglia partecipare però correremo per tutta la settimana per preparare perfetto Maria grazie davvero complimenti ad Aries a tutti i vostri supporters Luca allora dai per chiudere io direi salutando anche Dolores Marinella buonasera ragazzi ragazze meravigliosi ospiti i miei migliori complimenti da Dolores sì sì sono due grandi ospiti una che va di corsa l'altra non so quanto sei secondo me siamo a pari ci facciamo compagnia i confronti suoi siamo umiliati pazzescamente allora no datele questa indicazione importante ai vostri amici conoscenti che magari lavorano operano in una società sportiva magari non lo sanno ecco credo sia importante il passaparola Luca dai quindi entro il 15 di aprile inviare via mail a assessorato dello sport assessorato sport chiocciolacomune.com .it tutto il materiale che rappresenti la storia della vostra associazione sportiva come diceva Marco materiale fotografico video storie articoli giornali disegni per i disegni anche dei bambini anche i disegni dei bimbi certo se ci sono però bella questa cosa potrebbe essere carino che viene fuori qualcosa di bello anche da capire come i bambini vedono lo sport e come vedono la propria associazione questo è vero anche tutto quello che può servire per lanciare questa bella iniziativa appunto dei Rotary eccolo qua il premio Rotary per lo sport lo potete vedere questa è la locandina ufficiale del comune di Como perché c'è anche il supporto appunto del comune che vi ha dato una mano importante nella presentazione e nel lancio i giorni a disposizione sono pochi ma io credo si possa davvero portare a casa e le società direi portare a casa anche questo bel risultato e portare qualche soldino in cassa qualche soldino esatto il che come ho detto caro Luca non guasta non guasta assolutamente bene direi che è tutto noi vi aspettiamo l'8 di maggio poi l'8 di maggio per la marathon ci vediamo tutti per il premio Rotary per lo sport e per vivere una giornata di sport tutti insieme ecco sì perché il Rotary è anche questo il Rotary è importante sottolinearlo Luca siete un club di servizio che però ha anche questo sguardo attento che sia lo sport la solidarietà l'associazionismo insomma ci siete sempre questo è giusto sottolinearlo perfetto va bene ciao a tutti grazie per averci seguito ricordate passate parola di questo bellissimo premio Panatron premio Rotary per lo sport c'è anche il Panatron con il presidente ma questo è il premio Rotary per lo sport e poi la mezza maratona quanto dicevi che era il tempo a disposizione 20 minuti sono già passati 20 minuti caro no perché era preoccupata del tempo eccetera eccetera sono passati è vero è vero hai visto è volato siamo qui ancora mezz'oretta non si può è quasi come correre la mezza quasi la stessa cosa se la fai in 20 minuti fai il record si lo so però non sono così allenata ciao a tutti grazie davvero e viva lo sport di Como e grazie davvero alla Rotary per questo contributo importantissimo